When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Who keeps smiling? Daniela Cacciarro, in arte pallina, 35 anni, nasce a Milano e ha studiato presso l'Accademia Teatrale. Parla inglese e francese e il suo ruolo in villaggio è boutique. Il suo villaggio bravo è Kenya, Seven Island. Roberto Barassi, 45 anni, nato a Varese. Parla l'inglese e il francese. Ha studiato presso l'ISEF, ovvero l'Università di Scienze Motorie. Fa il piano bar. Il suo villaggio bravo è Zanzibar, bravo Kiwenga. Samuel Laurenti, nato a Gallarate, 22 anni e parla l'inglese. È perito elettrotecnico e il suo ruolo è tecnico suono e luci. Il suo villaggio è bravo Telemac, Tunisia. Giada Canta, 20 anni. Nasce a Locarno e ha studiato al liceo linguistico. Parla l'inglese, spagnolo e tedesco e il suo ruolo è fotografa. Il suo villaggio bravo? Baia dei Pini, Sardegna. Roberto Sorace, 32 anni, nato a Frosinone. Parla l'inglese e laureato in giurisprudenza. Responsabile, bravo bimbo? Il suo villaggio bravo è Vila do Farolla, capo verde. Francesco Maradonelli, in arte Sordes, nato ad Ancona, 28 anni, parla l'inglese, lo spagnolo e il francese. Ha studiato presso scienze della comunicazione ed è scenografo. Il suo villaggio bravo è Viva Azteca, Messico. Francesca Biotti, 18 anni. Nasce a Genova, parla inglese e ha studiato al liceo scientifico sportivo. Il suo ruolo? Be free. Il suo villaggio bravo preferito? Charm El Sheikh, Charm Club. Stefano Mainardi, in arte Birolli, boiade. Nato a Livorno, 26 anni. Parla l'inglese e il francese. Ha studiato presso l'Istituto Tecnico Nautico, è capo sport e il suo villaggio bravo è Portopino. Già da Gennari, 22 anni, nasce a Novara e ha studiato presso l'Istituto di Ragioneria. Il suo ruolo in villaggio? Bravo bimbo. E il suo villaggio bravo è Santo Domingo, viva Dominicus Palace. Antonio Marcello, nato a Torino, 23 anni fa. Parla l'inglese e il calabrese. Ha studiato presso l'Istituto Commerciale Alberghiero. Il suo ruolo è responsabile dell'attività diurne. Il suo villaggio bravo è Cala Landrusa. Giulia Benedetti, 23 anni. Nasce a Bassano del Grappa e parla inglese. Ha studiato all'Università delle Scienze e della Comunicazione. Il suo ruolo? Coreografa. Villaggio bravo? Madagascar. Andilana Beach. Lino Piserchia, nato 28 anni fa a Torino. Parla l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'arabo. È perito tecnico aeronautico e capo animazione. Il suo villaggio bravo è Alimatà, Maldive. Manuela Monesi, 36 anni. Nata a Bologna. Parla inglese, spagnolo e tedesco. Ed è laureata in Economia del Turismo. Il suo ruolo? Resident Manager. E il villaggio bravo preferito? Caio Largo, Via Coral, Cuba. Li vuoi? Scrivi alla pagina Facebook Villaggi Bravo. E io dovrei comprare questi. Sììììììììì.